Sono state scoperte centinaia di vasche nascoste nei boschi del casertano, ovvero laghetti artificiali costruiti ad arte per attrarre animali, con annesso bunker sotterraneo nei quali i bracconieri attendono la preda comodamente e cacciano anche in periodi non consentiti. Denunciate 24 persone e sequestrate 22 fucili, centinaia di munizioni, vari mezzi illegali di caccia, oltre alla cacciagione, che comprendeva anche specie protette. Il personale del Corpo Forestale di Caserta ha puntato ai riflettori su un orrore perpetrato a danno di specie, anche a rischio di istruzione, che nasconde grossi interessi nell'ordine di oltre un milione di euro l'anno. Questa mattina conferenza stampa al Comando Provinciale di Caserta, dove sono stati mostrati i metodi e le prove raccolte insieme ai video girati direttamente nei luoghi. All'evento erano presenti gli esperti delle associazioni Lipo, Beard Life Italia e VUF per approfondire il fenomeno del bracconaggio. Per oltre due mesi in tutta la provincia sono stati sequestrati 22 fucili, spesso modificati dai bracconieri, per renderli maggiormente offensivi, oltre a più di 3.000 cartucce cariche, svariate, decine di richiami acustici e numerose specie di anatidi, tra cui marzaiole, mestoloni, codoni, alzavoli e in alcuni casi anche specie protette come la volpoca. Questo scempio di biodiversità avviene in periodi in cui la caccia non è consentita, proprio perché la fauna selvatica migra per raggiungere gli areali di nidificazione e per alcune specie si sono già formate le coppie per la riproduzione.